Sì, vabbè, stiamo seguendo il mister in maniera tranquilla, stiamo lavorando bene, anche se oggi c'è stata la nostra prima sconfitta, però ne facciamo tesoro e andiamo avanti. Ecco, a proposito della sconfitta, non fa testo, ci avviciniamo però sempre ormai a tappe spedite all'inizio del nuovo campionato, che stagione ti immagini? No, diciamo è meglio che arrivata ora la sconfitta e magari in campionato, anzi ti fa capire la difficoltà della categoria. Ci aspettiamo di arrivare il più in alto possibile, poi prenderemo quello che capiterà. Un pastore difensore ma pericoloso anche in avanti? Sì, sono capitate due azioni, però sono stato poco fortunato, un portiere fortissimo dall'altra parte. Vabbè, diciamo che a me piace andare in fase offensiva nei calci piazzati. Prima intervista ufficiale con il video, con la Polisportiva Santa Maria, come mai questa scelta? E poi, insomma, non è la prima volta che giochi alla corte di Mister Esposito? Sì, l'ho avuto a Sarno 4-5 anni fa. Sono arrivato qui grazie a lui e grazie alla società che mi ha voluto fortemente. Sono contentissimo e andiamo avanti cercando di raggiungere il più possibile gli obiettivi. In bocca al lupo. Grazie.